Musica Ok ragazzi eccoci di nuovo qui abbiamo abbastato il volume Adesso dovrebbe sentirsi bene la mia voce Speriamo almeno Ok un attimo mi alzo quello delle cuffie per sentire io Ok Allora dobbiamo guardare tutti i cartelloni Perfetto Vediamo gli obiettivi Avvicini al cartello indicato dalla stella sulla tua bussola Vediamo un po' Questa qui Perfetto Adesso andiamo a fare l'addestramento dei movimenti tipo salto, corsa e tutte queste cosette qua Ok partiamo partiamo Vediamo se riusciamo ad arrivare primi almeno Alzati alzati Ok salta Salta Ok tutti dietro sono ancora Ok qui dobbiamo farcela strisciando perché c'è Questo tizio qui Che gli, no si è uno soltanto che spara con la Con la toretta Penso se stranudisce Cioè ammazza tutti Speriamo di no Se no finisce subito il let's play Comunque questo let's play lo farò Non è episodio di 15 minuti l'uno Ma ogni fine missione È un episodio Cioè quindi ogni Sarà un episodio per ogni missione Quindi sia che durano mezz'ora Che durino 5 minuti Io li concludo Ok adesso qui dobbiamo provare le armi Abbiamo la gabbina M4A1 Vediamo un po' Dove lo dobbiamo far Ok qui 6 volte Eh ho fatto Ok perfetto Andiamo avanti Adesso di qua Dobbiamo, dobbiamo provare il Lo springfield Fugito di precisione Vediamo munzioni Ok Andiamo Perfetto Altre due volte Un attimo che migliamo Uno E due Perfetto Andiamo nell'altra zona Qui per fare altre Altre missioni Qui c'è il Thompson Addirittura Tutto il mitra Almeno 2-9-3 Può portare solo le due armi Oltre all'arma bianca Che ha le granate Vediamo un po' Vediamo un po' Vediamo un po' Se possiamo fare Qui Ok Colpisci il versaglio 10 volte Prendi il pulsante adesso Per prendere la mira Ok dai Abbiamo fatto Su Modemma sopra te Dai su 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 Sbrigate Basta Su Fammi Fammi in avanti Attacco corpo a corpo Un po' Qua Non c'è Sto capendo niente Ragazzi Qui ho finito Di 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 sparare Ok Ok perfetto Possiamo andare avanti Qui dobbiamo testare Invece la nostra Baurra per le bombe Ok le granate Le granate Vediamo un po' Allora andrò qui Addestramento con le granate Perfetto Dobbiamo tirarla nelle finestre A quanto pare Vediamo se riusciamo Ok Abbiamo fallito già il primo Ok questa è andata Questa pure E questa pure Qui ne abbiamo un'altra Ok queste altre Finiamocene Teniamole così a caso Perfetto Andiamo avanti Qui invece Kit medico Vabbè Non ci serve Ok prendiamoci 4 Andiamo a piazzarlo qui Questo muretto Esplosivo Esplosivo e piazzato 5 4 3 2 1 0 Boo Madonna che esplosione Ok Passata il suo ultimo Addestramento Ok ragazzi abbiamo completato L'addestramento Quindi come ho detto prima Facciamo un episodio Per ogni missione Quindi se questo vi è piaciuto Vi lascia un commento Se siete già Iscrivetevi al canale Iscrivetevi al canale Facebook Tra la descrizione di questo video E niente Questa è tutto Nel prossimo video Qui nasce tutto E bye bye Nel prossimo video